Ma quel giorno che tu parlavi con me, io ero occupata, stavo facendo un ciuppa ciuppa. Che fai di mestiere Lucia? Il mestiere più vecchio del mondo. La puttana. Ecco, ecco. Ascolta, io volevo parlare anche del sindaco di San Fior, che mi ha dato 74-75 anni, quello scemo bastardo. Perché quello è un bastardo proprio, leghista di merda. Ma perché? Che ha fatto sto cosa? Ma quello ce l'ha a morte con me, quello scemo bastardo. Sono bella, sono simpatica, io ho tutte le specialità di tutte, faccio bene i ciuppa ciuppa dance. Faccio bene i ciuppa ciuppa dance.